Sono Andrea Bellardinelli, mi trovo qua a Balzi con il PoliTrack, che è la nostra clinica mobile. Andiamo cercando di dare assistenza sanitaria alle persone che arrivano dall'Ucraina, che presentano sintomi di grande stress dovuto alla situazione che hanno appena attraversato, al viaggio che hanno fatto. Anche alle persone che soffrono di malattie croniche, quindi vediamo bambini, vediamo persone anziane, cerchiamo di dare spazio a chi ha più fragilità tra questa folla di gente che sta arrivando fino a qui. Cerchiamo di farlo con la nostra equip e per cercare di andargli al prima possibile da qui, perché significherebbe che questa assurdità è finita.